Ho tanta voglia di riscatto come ce l'hanno i ragazzi, non vedo l'ora che arriva questa partita per voler dimostrare che possiamo essere quelli che siamo stati fino a qualche partita fa. No, abbiamo tutte le capacità di farlo, ma io sono molto sereno, ma la mia serenità me la danno i ragazzi, perché quando io vedo che in settimana si allenano bene e fanno tutto quello che gli chiedo e lo fanno bene con entusiasmo e con voglia e vedo la loro voglia negli occhi di rivincita, io sono sereno. Non sarei sereno se vedessi altri problemi, ma questi problemi non ci sono, quindi si sono allenati molto bene, sono concentrati e hanno voglia di riscatto. Io sono sereno. Fino alla fine dell'anno vi posso garantire che il pescato dei tanni non lo vedrete più, perché la nostra forza è sempre stata una e quello che abbiamo conquistato l'abbiamo conquistato con quella filosofia e quella deve essere. Al di là poi dei momenti di difficoltà, ma in questo campionato solo tre o quattro volte non siamo andati a segno, quindi questo è un dato importante, questa è una squadra che fa gol, una squadra che crea, crea tantissimo. E non puoi privarti di quella che è la tua forza. Gli importati saranno ancora avresti. Il Como sta bene, è una squadra che sta bene fisicamente, che è in salute, gioca, da quando ha cambiato ha fatto una vittoria fuori casa e un pareggio in casa, contro comunque un avversario valido, molto valido. È una squadra che non va sottovalutata assolutamente. Se scendiamo in campo pensando che incontriamo il Como, ultimi incassivi, che vinciamo, ci sbagliamo di grosso. Abbiamo tutti i mezzi e le qualità per poter vincere la partita, perché noi ci possiamo nascondere dal fatto che è ovvio che dobbiamo vincere. Possiamo e dobbiamo vincere, però senza sottovalutare l'avversario, perché poi è una squadra che ovviamente ha bisogno di punti. Non credo che fare una partita all'attacco, ovviamente, sfrutterà le sue qualità, le sue caratteristiche, dovrebbe giocare a 5, come ha fatto da due partite a queste parti. Grazie a tutti.